Savino Pezzotta, candidato per l'Udc alle regionali, ha ribadito il suo disappunto sul decreto salvaliste. Lo ha fatto nell'intensa giornata bergamasca, prima in città poi all'auditorium delle scuole elementari di Clusone, dove ha sottolineato «sembra che qualcuno sia più uguale degli altri di fronte alla legge». Io credo che quello che è avvenuto in queste ore sia abbastanza grave, nel senso che cambiare le regole in corso del gioco non è corretto e crea sicuramente un problema per il futuro. Noi avevamo detto con estrema chiarezza che preferiamo sicuramente fare una competizione voto su voto, che occorreva attendere quello che avrebbe deciso il Tar e sulla base di quello concordemente si potrebbe trovare una soluzione. Pezzotta ha poi illustrato i punti principali del programma, che ha al centro i temi del lavoro e della famiglia. Occorrono interventi per un lavoro di qualità e per sostenere le piccole imprese. Vogliamo introdurre il quoziente familiare regionale nel quadro di un grande progetto di politiche familiari e avviare un piano di contrasto alla povertà. In Lombardia i problemi centrali siano almeno due. Quello del lavoro e riguardo alla piccola impresa e il lavoro dipendente che sta vivendo una situazione di grandi difficoltà. La seconda è quella della famiglia. Credo che serva una politica per la famiglia centrata sul coziante familiare. E che vuol dire avere un sistema tariffario, tariffe dell'acqua, tariffe del gas, tariffe dei servizi. Tenere conto della realtà familiare per determinare quello che è il costo dei servizi, pertanto quanto uno deve pagare in base al carico familiare che ha. Presenti all'incontro, candidati in corsa alla prossima tornata elettorale, Valerio Bettoni, già presidente della provincia di Bergamo dal 1999 al 2009, Antonio Gonella, in passato assessore in comunità montana a Valle Seriana Superiore. A fare gli onori di casa, il sindaco di Crusone, Guido Giudici.